Nelle campagne della provincia di Lucca si trova un luogo incantato dove il tempo sembra essersi fermato e ogni cosa convive in perfetta sintonia con la natura. L'agriturismo al Molino della Luna vi aspetta in questo scenario fiabesco perché possiate festeggiare in grande stile il giorno più bello della vostra vita. La tenuta dispone di un bellissimo giardino con un ampio prato verde e una zona attrezzata con piscina e barbecue. A seconda della stagione in cui deciderete di festeggiare le vostre nozze, potrete approfittare della gradevole atmosfera all'aria aperta o della comoda sala del ristorante. I gestori della location saranno a disposizione per definire con voi ogni dettaglio dell'evento, mentre il personale qualificato si occuperà della preparazione di ogni cosa, dall'allestimento degli spazi per la cerimonia in loco e il ricevimento fino alla contrattazione di musicisti e fotografi, perché il ricordo della giornata sia indimenticabile e speciale. Scegliendo l'agriturismo al Molino della Luna, regalerete ai vostri invitati un'esperienza gastronomica di altissimo livello, caratterizzata da piatti tipici della località, elaborati con materie prime, prodotte presso la stessa azienda o da altri produttori della zona, caratteristica che ha contribuito all'attribuzione del presidio Slow Food per questo ristorante. Grazie per la visione!